Il nostro paese, dopo tanti decenni, è arrivato il momento di ricordare. Qualcuno di noi ha sempre ricordato, perché la storia che è stata scritta è una sola e nonostante a volte i libri di storia non l'abbiano riportata, quella storia è quella che ci hanno insegnato i nostri padri. E' la storia che nel giorno del ricordo testimonia la tragedia degli stilano d'Almati, di coloro che furono infoibati con la grande colpa di essere italiani e di non voler rinnegare l'amore per la propria patria e videro la violenza comunista titina infoibarli in quelli che sono oggi dei luoghi bellissimi dove noi andiamo a sciare o dove vediamo le gare di Coppa del Mondo. Ma a pochi metri c'è la tragedia dei nostri connazionali. E questa giornata ricorda i 300.000 profughi. Coloro che persero tutto, casa, affetti, amicizie e furono costretti ad abbandonare la loro casa per andare nella loro patria, l'Italia, che in quel momento li accolse con manifestazioni di odio. Furono raccolti in campi di concentramento, quasi che l'aver scelto di essere italiani fosse un'onta, una colpa, dalla quale non potevano liberarsi. Noi non abbiamo solo il desiderio di ricordare, ma l'obbligo di ricordare. Non bisogna aver paura di ricordare la propria storia. La nostra storia è quella che ci ha forgiato e ci ha reso ciò che siamo. E il sacrificio di queste persone che scelsero l'Italia prima di tutto e l'Italia soprattutto ci deve far ricordare qual è la bellezza di appartenere a questo paese. Questo non per sciovinismo, perché noi diamo un contributo alla nascita della grande Europa multietnica, multiculturale, multireligiosa, ma partendo da un punto di partenza fondamentale, l'essere italiani con i nostri valori, la nostra storia, i nostri martiri e i nostri morti, a cui noi dobbiamo rispetto, perché senza il rispetto verso di loro noi non avremo nulla da portare in condivisione con tutti gli altri. L'Europa nascerà senza quelle radici cristiane dalle quali si fonda la nostra Italia e quelle radici italiane che ci rendono un popolo diverso dagli altri, non migliore, ma sicuramente capace di essere sempre orgoglioso della propria storia e delle proprie tradizioni. Il giorno del ricordo serve a questo e io spero che ancora di più l'anno prossimo lo sia e che ancora qualcuno di meno, e quest'anno qualcuno c'è stato, non abbia vergogna di ricordare una pagina buia, perché anche dal buio si può andare verso la luce.